ma buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video degli scorci incantati oggi andiamo a raccogliere niente popo che di meno che la mia prima primissima collezione di segnalibri con gli ignomi guardate che spettacolo ogni ignomo ha la sua personalità tranne questo qua che ho detto voglio fare una cozzaia di roba dietro ci sono delle frasi sempre inerenti al nostro mondo degli ignomi e le frasi d'autore sono a sorpresa quindi ogni ignomo avrà la sua frase a sorpresa questo qua che legge il mio preferito sono sincera sono troppo 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 carini sono troppo soddisfatta di queste mie creazioni spero di cuore davvero che vi piacciono anche a voi seguitemi sulle mie pagine instagram facebook e qui ciao a tutti